27 anni di carcere, 24 per omicidio volontario e 3 per il reato di occultamento di cadavere. Questa è la richiesta che il PM Marco Dioni ha fatto alla Corte d'Assise per Padre Graziano alla conclusione di una requisitoria fiume durata quasi 7 ore. Abbiamo sentito una campana, aspettiamo un'altra campana, basta. Mi sembra evidente che il minimo che si potesse avere era una richiesta di condanna. La quantificazione della pena rientra anche nei limiti logici di un reato come quello contestato quindi io mi aspettavo una richiesta ancora più forte sui 30 anni. Una richiesta che ha escluso l'aggravante dei futili motivi non sussistente ma per il PM non ci sono dubbi. Il frate congolese ha ucciso Guerrina Piscaglia quel 1 maggio 2014, ne ha occultato il cadavere e poi ha messo in atto una serie di depistaggi perpetrati nel tempo che hanno fatto partire in ritardo le indagini. Se l'aggravante non viene riconosciuto ovviamente la pena dell'ergastolo non può essere prevista come pena. Ha previsto però la pena massima sia per l'omicidio che la continuazione per quanto riguarda il delitto di distruzione e soppressione di cadavere. Mirko ancora non ha praticamente realizzato, io l'avevo evidentemente preparato alla richiesta del pubblico ministero e io infatti gli avevo detto o l'ergastolo oppure una pena molto vicina ai 30 anni, così è stato. Io speravo qualcosa di più, comunque va bene dai. Secondo noi comunque lui è colpevole. Cristallino anche il movente per il PM Marco Dioni, il morboso sentimento di amore provato dalla casalinga di Caraffello nei confronti del religioso, sentimento che l'avrebbe resa sempre più insistente nei suoi confronti. Il frate congolese non sarebbe quindi stato più in grado di gestire la donna e nella ricostruzione del PM nel pomeriggio del 1 maggio 2014 prima l'avrebbe incontrata e poi alla fine di un diverbio uccisa tra le 13.46 e le 14.20. Ci sarebbe inoltre, secondo la pubblica accusa, una firma ed una controfirma dell'omicidio lasciata dall'imputato. L'SMS è inviato dal cellulare di Guerrina Piscaglia le 17.26 del 1 maggio ad un prete nigeriano conosciuto solamente da padre Graziano e la figura di zio Francesco per l'accusa frutto della fantasia del congolese, due elementi che secondo il PM incastrerebbero il religioso. Non capisco perché il Pubblico Ministero inizialmente gli stessi elementi li ha valutati come configuranti l'ipotesi di favoreggiamento ed oggi invece come ipotesi di omicidio. Le foniche sono solamente una parte del quadro indiziario. Ci sono tantissimi elementi, tantissimi indizi, come dice il codice, gravi, precise e concordanti che sono contro l'imputato. Il processo al religioso congolese riprenderà il 14 ottobre, sarà il turno delle parti civili e successivamente spetterà la difesa del frate che ha rinunciato all'audizione dei propri testimoni. La sentenza potrebbe quindi essere già pronunciata per novembre un mese prima rispetto al calendario inizialmente stilato.